Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione di storia. Oggi parleremo di Martì Lutero, della sua dottrina e della storia della riforma protestante. Già nella lezione precedente abbiamo visto quanto fosse in crisi la Chiesa in quel momento storico, cioè all'inizio del Cinquecento, appariva molto più interessata alle cose profane piuttosto che a salvare le anime dei fedeli e quindi i cristiani di tutto il mondo cominciarono a chiedersi se l'Apocalisse predicata dai frati mendicanti non fosse veramente vicina. Se lo chiese in particolare un monaco, un monaco agostiniano della Turingia che si chiamava Martì Lutero. Martì Lutero era nato nel 1483 in Turingia che come vedete dalla mappa è una regione della Germania centrale. La famiglia di Lutero era una semplice famiglia borghese anche se piuttosto facoltosa. Suo padre infatti era un minatore, un minatore che si era arricchito e che quindi aveva voluto che suo figlio, che era un giovane di belle speranze, molto intelligente, bravo a scuola, facesse una vita migliore della sua. Infatti lo avviò agli studi di diritto che gli avrebbero consentito un'ottima carriera e una vita agiata. Pochi anni dopo però, Lutero aveva poco più di vent'anni, questo ragazzo si ritrovò da solo a camminare in mezzo ad un temporale tra tuoni e fulmini e venne letteralmente fulminato da un'improvvisa vocazione religiosa. La paura che provò in quella notte pensando che Dio stesse per colpirlo e per ucciderlo fece sì che il ragazzo si convincesse a farsi monaco e ad entrare tra gli agostiniani che abbiamo visto essere uno dei più importanti ordini mendicanti dell'epoca. Già il fatto che questo ragazzo avesse avuto tanta paura di essere fulminato dall'ira di Dio vi fa capire che la sua visione della vita era molto cupa. Secondo Lutero infatti gli esseri umani, corrotti dal peccato originale di Adamo, erano naturalmente portati a fare del male. Ogni loro azione, per quanto votata al bene dunque, non poteva che finire per trasformarsi in qualcosa di negativo. Quale era la conseguenza logica di questa impostazione? Beh, che qualunque cosa l'essere umano faccia non potrà mai riuscire a salvarsi, non potrà mai riuscire ad andare, non dico in paradiso, ma neanche in purgatorio, sarà sempre e comunque condannato all'inferno. Questa visione di Dio come di un giudice severo, come di un padre crudele che non aspetta altro che di punire i suoi figli per qualunque mancanza, lo portò letteralmente ad odiare Dio. Egli avrebbe voluto un Dio misericordioso, invece quello che gli si prospettava era un Dio giudice crudele. Nel 1510 Lutero fu mandato a Roma. Il monaco si aspettava di entrare in una città santa dove finalmente avrebbe potuto trovare le risposte che stava cercando inutilmente da anni. Purtroppo venne immancabilmente deluso. Infatti una volta entrato a Roma si rese conto che la città era piena di depravazione e di corruzione. Prostitute da tutte le parti, da ogni parte si vendevano santini, tutti cercavano di prendere i soldi dei pellegrini. Egli andò a visitare le reliquie, fece la scala santa in ginocchio e tutto per che cosa? Per avere un foglio di carta dove si attestava che suo nonno sarebbe stato salvato dall'inferno. Infatti a Roma si guadagnavano un sacco di soldi attraverso la vendita delle indulgenze. Abbiamo già visto come le indulgenze fossero fondamentali per la chiesa di allora perché servivano ai sacerdoti per integrare il loro magro stipendio, ai vescovi per poter risiedere a Roma e al Papa per concludere la costruzione del cupolone di San Pietro, un cantiere che si rivelava sempre più un pozzo senza fondo. Quindi Lutero, deluso, torna in Germania, sempre più ossessionato dal senso del peccato e dalla paura che l'intera comunità dei battezzati fosse condannata alle pene dell'inferno senza possibilità di redenzione. Lutero per cercare una soluzione a questi suoi dubbi, una risposta a questi suoi dubbi, cercò affannosamente nelle scritture qualche consiglio per se stesso e per l'umanità intera. Ma la soluzione gli si presentò soltanto qualche anno dopo. Infatti nel 1512 egli era stato chiamato all'Università di Wittenberg in Sassonia, la regione che vedete qui nella cartina, per tenere un corso di sacra scrittura in questa università che era stata fondata di recente e che aveva bisogno di professori che attirassero gli studenti. Nel 1515 a Lutero venne chiesto di tenere un corso sulla lettera ai Romani di San Paolo. Ecco, la lettura di questa lettera gli cambiò letteralmente la vita, fu un momento di straordinaria importanza per Lutero. Perché questa lettera era così importante? Cosa affermava Paolo al suo interno? Secondo Paolo l'uomo è naturalmente portato al male e non potrà mai salvarsi con le sole sue forze. E Lutero si riconosceva perfettamente in questa affermazione, era quello che lui aveva sempre ritenuto. Ma Paolo non si fermava qui e forniva una semplicissima soluzione al tormento spirituale del nostro monaco. Infatti Paolo affermava che colui che ha fede in Cristo, cioè che crede in Cristo, non deve avere paura perché sarà comunque salvato. Non sarà salvato per le proprie azioni o per i propri meriti che saranno sempre e comunque insufficienti, ma sarà salvato semplicemente per la grazia ricevuta da Dio attraverso suo figlio Gesù. Nella sua lettera infatti Paolo afferma che i nostri peccati sono già stati perdonati perché Gesù ha espiato subendo il martirio e morendo sulla croce la punizione che aspettava a noi. Quindi noi compiremo peccati ma non saremo puniti per questi peccati perché se avremo fede in Cristo noi saremo salvati grazie a lui. Lui ha già espiato sulla croce il nostro peccato, ha già subito la punizione al posto nostro e quindi la salvezza non diventa qualcosa che bisogna ottenere con i nostri sforzi, diventa semplicemente un dono di Dio da accettare con gioia e con fede. Nel 1517, dopo due anni di riflessioni, Lutero decide di pubblicare le sue famose 95 tesi. Secondo una leggenda storicamente mai veramente dimostrata, è nell'ottobre di quest'anno che Lutero avrebbe affisso sulla porta della cattedrale di Wittenberg un foglio contenente queste affermazioni, queste 95 tesi, invitando gli altri teologi a discuterle in un pubblico dibattito, come si faceva normalmente all'università. I professori proponevano delle tesi, cioè facevano delle affermazioni, che si dichiaravano pronti a sostenere in un pubblico dibattito con altri professori o altri studenti che cercavano di dimostrare il contrario. Quindi era una pratica comune all'interno dell'università. Ora non si sa se veramente Lutero abbia affisso queste 95 tesi alla porta della cattedrale di Wittenberg oppure se semplicemente le abbia pubblicate come si faceva all'epoca, molto più probabile la seconda ipotesi. Però è molto affascinante pensare a queste martellate che scolpiscono la storia esattamente come qualche secolo prima avevano fatto le martellate nella mano e nei piedi di Gesù Cristo. Con le sue 95 tesi Lutero affermava pubblicamente un principio, quello che successivamente verrà chiamato il principio della giustificazione per sola fede. Cominciate a far pratica con questo termine ragazzi, giustificazione. Voi conoscete questo termine quando i professori vi danno la possibilità di giustificarvi da una interrogazione salvandovi così dall'essere appunto interrogati. Beh, giustificazione per sola fede vuol dire proprio questo, che siamo salvati, siamo perdonati soltanto perché abbiamo avuto fede in Cristo. È ovvio che noi peccheremo, è ovvio che noi compieremo azioni sbagliate, ma non dobbiamo aspettarci dopo morti di doverci pentire, di doverci purgare da questi peccati. Noi siamo già salvati, come abbiamo detto, perché abbiamo avuto la fede in Cristo. Le cose sono due, o siamo salvati, abbiamo avuto la fede in Cristo e quindi siamo salvati, oppure siamo condannati all'inferno, non abbiamo avuto fede e quindi siamo condannati. Non può esistere qualcosa in mezzo, non può esistere il purgatorio. Ma se non esiste il purgatorio, allora cosa sono le indulgenze? Lutero rifiuta totalmente la legittimità della vendita delle indulgenze perché appunto le indulgenze servono semplicemente per passare meno tempo in purgatorio, ma se il purgatorio non c'è è evidente che le indulgenze non sono legittime. D'altra parte, afferma Lutero, in nessun luogo delle scritture viene nominato il purgatorio. Si parla soltanto o del paradiso o dell'inferno. Ora sappiamo quanto la vendita delle indulgenze fosse importante per la chiesa dell'epoca, perciò questo aspetto della predicazione del monaco tedesco lo mise fin dall'inizio in aperto contrasto con l'intera chiesa di Roma, dai ranghi più bassi a quelli più alti. Si trattava di una vera e propria bomba ad orologeria che presto sarebbe esplosa tra le mani del papa e dell'imperatore. L'imperatore, eletto nel 1519 alla guida del Sacro Romano Impero, era il famosissimo Carlo V, giovanissimo all'epoca, aveva soltanto 19 anni. Carlo V non dette alcun peso alla cosa, era molto impegnato a combattere contro Francesco I nelle guerre d'Italia e quindi non se ne interessò minimamente. Ma anche il papa Leone X, che avrebbe dovuto accorgersi per tempo dell'insidia, inizialmente prese il problema sotto gamba e ritenne assurdo perdere il proprio tempo a discutere le teorie di uno sconosciuto monaco tedesco. Ma Lutero si dimostrò capace di molto più che di una serie di teorie. Infatti, tra il 1519 e il 1521 pubblicò vari libri che fondarono la sua nuova teologia. In questi testi Lutero elaborò un secondo principio, un secondo principio che lo avrebbe allontanato ancora di più da Roma, il principio della sola scrittura. Secondo tale principio non solo le indulgenze e il purgatorio, ma tutti i dogmi creati dalla Chiesa che non erano presenti nelle scritture dovevano essere eliminati. Lutero infatti riteneva che solo la Bibbia, soprattutto il Nuovo Testamento, fosse l'unica fonte valida per costruire la dottrina. Ecco, in base a questo principio, Lutero quindi rifiutò la maggior parte dei sacramenti, rifiutò la cresima, la confessione, l'unzione degli infermi, l'ordine sacro o sacerdozio e anche il matrimonio, ritenendo validi solo il battesimo e l'eucarestia perché erano gli unici istituiti direttamente da Gesù. Non ammettendo la validità del sacramento dell'ordine sacro, cioè appunto del sacerdozio, la dottrina di Lutero negava quindi ogni fondamento alla gerarchia ecclesiastica. Il sacerdote non è più una figura consacrata, ogni uomo gode del sacerdozio e può quindi raggiungere direttamente Dio senza bisogno di intermediari. Quindi se ogni uomo può parlare con Dio, può leggere la Bibbia, può raggiungere direttamente l'Altissimo, l'esistenza stessa della Chiesa è totalmente inutile. Alla guida della comunità dei credenti, secondo Lutero, non ci devono essere papi, vescovi, sacerdoti, ma semplici pastori, dei laici, formati alla scuola della scrittura però, che abbiano studiato la Bibbia e che conoscano bene la parola di Dio, che amministrino il culto e guidino spiritualmente e moralmente i loro fratelli, ma che non si ritengano superiori perché sono stati consacrati. Ora, quando Leone X e Carlo V compresero per davvero con chi avevano a che fare, ormai era troppo tardi. La riforma si era diffusa, in Germania tutti leggevano le opere di Lutero, tutti cominciavano a pensarla come lui. Il Papa quindi decise di prendere il toro per le corna e di scomunicare questo monaco agostiniano. Nel 1520 il Papa pubblicò la bolla Exurge Domine e scomunicò il monaco. Non appena Lutero ricevette la bolla di scomunica, la prese, la portò in piazza e la bruciò di fronte a tutti. L'imperatore però non poteva permettersi di ignorarla. Infatti il Papa si rivolse all'autorità politica principale della Germania, Carlo V, per chiedergli di liberarlo da questo monaco che stava creando tutti questi scompigli in Germania. L'imperatore convocò Lutero nella città di Worms e gli dette 24 ore per ritrattare quanto aveva scritto nei suoi libri. Eravamo nell'aprile del 1521 e esattamente il 18 aprile del 1521 Lutero ritornò, come vedete qui nell'immagine, al cospetto dell'imperatore, dei principi elettori e dei borgomastri delle città tedesche, per affermare di nuovo le sue idee. Disse Lutero, non posso né voglio sconfessare nulla. Carlo V, che sapeva bene quanto seguito avesse il monaco tedesco, non ebbe il coraggio di condannarlo direttamente a morte, ma lo dichiarò bandito dal Sacro Romano Impero, per cui se Lutero si fosse fatto trovare, dopo una certa data, di nuovo all'interno dei confini del Sacro Romano Impero, chiunque avrebbe potuto ucciderlo. Con l'aiuto del suo protettore, il duca Federico di Sassonia, che era anche stato colui che aveva creato l'università di Wittenberg per cui Lutero lavorava, il monaco fece in tempo a nascondersi nella fortezza di Wartburg. C'è tutta una storia per cui Lutero, che stava appunto andandosene da Worms, venne inseguito sia dai sicari di Carlo V, che avrebbero voluto ucciderlo, sia dai sicari del duca Federico di Sassonia, che volevano rapirlo, ma non per ucciderlo, ma per salvarlo, per nasconderlo. Nella fortezza di Wartburg, al sicuro, Lutero lavorò ad una traduzione della Bibbia dal latino al tedesco, con in testa un'idea semplice e chiara. I buoni cristiani avevano il sacrosanto diritto di potersi accostare alle scritture in una lingua che capivano. Dovevano poter leggere la Bibbia autonomamente. Intanto, non solo il duca di Sassonia, ma anche altri principi tedeschi andavano prendendo le distanze dall'imperatore e avvicinandosi al teologo di Wittenberg. Un po' perché essi stessi avevano idee religiosamente riformatrici, ma anche molto perché questo per loro era un modo per affermare la loro indipendenza politica da un imperatore come Carlo V, che era decisamente troppo ricco e troppo potente. La riforma venne detta protestante appunto perché i principi tedeschi protestarono contro la condanna di Lutero contestando la decisione di Carlo V. Nel 1524 fino al 1525 però accadde qualcosa che Lutero non si era aspettato. Infatti i contadini della Sassonia e della Turingia accolsero il messaggio di Lutero come il segnale che era finalmente cominciato il regno di Cristo sulla terra e si convinsero che stesse per finire non soltanto la corruzione della Chiesa, ma anche la dominazione feudale. Se possiamo liberarci da questa schiavitù che ci impongono i vescovi e i sacerdoti, beh perché non possiamo liberarci dalla schiavitù che ci impongono i grandi signori. Per questo in alcune zone della Germania i contadini si ribellarono in maniera selvaggia, cominciando ad incendiare i castelli e a massacrare i signori che trovavano. Lutero a questo punto dovette prendere posizione, dovette schierarsi a favore degli uni o degli altri e la sua scelta fu di schierarsi a favore dei signori. Infatti Lutero si spaventò moltissimo per la radicalizzazione del suo movimento e quindi si pronunciò in maniera chiara e netta, anche piuttosto crudele, a favore di una repressione della rivolta che in effetti venne sedata nel sangue. Mentre si concludeva la guerra dei contadini con circa 300.000 morti, nel 1525 Lutero decise di dare seguito alle sue idee e di sposarsi e infatti si sposò con Catarina von Bora, una monaca che anche lei era scappata dal convento, affascinata dalle idee di Lutero, era andata a cercare il monaco e da questo matrimonio nacquero ben sei figli. Nel 1531 i principi protestanti fondarono la Lega di Smalcalda. Che cos'è la Lega di Smalcalda? Beh, i principi tedeschi riconobbero, come abbiamo detto nel contrasto tra Lutero e Carlo V, un ottimo pretesto per rendersi più indipendenti dall'imperatore, ma si rendevano perfettamente conto che quell'imperatore era estremamente potente, estremamente ricco. Carlo V possedeva un impero sul quale, come si diceva all'epoca, non tramontava mai il sole, dalle colonie spagnole in America fino appunto alla Germania. Per cui i principi protestanti decisero di formare un'alleanza militare difensiva, la Lega di Smalcalda appunto chiamata così dal nome della città della Turingia, dove si riunirono per firmare l'accordo, in difesa del movimento luterano. Alla Lega di Smalcalda si contrapponeva la Lega di Norimberga, che riuniva i principi cattolici. Gli scontri tra la Lega di Smalcalda e la Lega di Norimberga andarono avanti per più di vent'anni. Nel frattempo, nel 1546, moriva Martin Lutero. Nel 1555 venne firmata finalmente la pace, la pace di Augusta. Il compromesso che venne raggiunto fu il seguente. Ogni principe aveva il diritto di scegliere liberamente da che parte stare, cioè di scegliere liberamente la propria religione. Chi non era d'accordo con la religione del proprio signore non veniva imprigionato o ucciso, però doveva andarsene a vivere da un'altra parte. I luterani nelle terre di un principe luterano e i cattolici in quelle di un principe cattolico. Con un'espressione latina questa regola fu detta la regola del cuius regio eius religio. Di chi è la regione, di lui è anche la religione. Quindi il principe sceglie la religione e tutti gli altri che appartengono a quella stessa regione devono adeguarsi. Era tutto forché una regola liberale, come vedete, dal momento che trasformava la scelta religiosa di un principe nella confessione obbligatoria dei suoi sudditi. Per giunta la regola non ammetteva come possibili altro che due confessioni, la cattolica e la luterana. Ogni altra forma di sensibilità protestante, compreso il calvinismo, un movimento che si sviluppò in seguito e che ebbe grande diffusione e di cui poi parleremo, veniva considerata illegale e poteva essere perseguitata in quanto giudicata eretica. Ma con questo noi per oggi abbiamo concluso. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.